Andrea Cherubini E' tornato in studio con noi per la seconda puntata di questo Istruzioni per l'USA Quindi partiamo, vi abbiamo lasciato sul grattacielo del Rockefeller Center E siamo ancora nel grattacielo in una sala particolare Vedi i colori Che esce? L'abbronzante? No, suoni, colori, insomma è una sala molto particolare Qui insomma siamo nella fase... Che sembra una scuola media delle margaritone Ma è un carcere C'è bisogno di andare in America per trovare una cosa così Siamo, ecco, qui stiamo scendendo Qui stiamo scendendo con questo tetto trasparente, con queste scritte E ti rendi conto di quanto camminano questi grattacieli Perché questi ascensioni in grattacieli L'ascensione sta fermo Perché da noi per dire cammina l'ascensione Eh beh insomma sono americani Insomma il mondo... Guarda è velocissimo E' estremamente veloce E devo dirti che ti fa proprio l'effetto anche alle orecchie Deve compensare Quindi c'è una decompressione di tipo... Molto forte Molto forte E quanti ce n'hai di questi ascensori per scendere? Di quanto... Decine Cioè in America c'è tutte Quanto ce n'hai? Migliaia d'ascensioni Già in terra sei Questa è... Questa che è l'isola di Pasqua No, ma questa è una mostra Fra l'altro è un artista italiano Ah cazzo Sarà mica è castica No però Penso che lo chiameranno Qui sei sul piazzale Si vede Nellaia Siete praticamente Di Rockefeller Alle ora si attacca con le bandiere Come mai c'è tutte queste bandiere? Perché questa è la piazza centrale Di Rockefeller Center Che sono una serie di grattacelli Che i poveri Rockefeller Negli anni venti hanno comprato Tutte le bandiere di tutto il mondo Di tutto il mondo Col citrone C'è anche col citrone Sant'Andrea che ha vinto Guarda Guarda queste sculture Sono da isola di Pasqua queste Dai Guarda qui Cosa c'è di vicino Che potrebbe interessare molto Ugo Rondini Ugo Era Ugo Il famoso Porrugo Ecco ora qui Vediamo cosa Significa da terra Il grattacello Dove eravamo prima Madonna mia Matteo guarda che roba L'antiappato facile Cioè se uno si butta Per ammazzare Si fa un tempo a pentisse Per ammazzare Si ma pareti Che cazzo ha fatto E arriva a te Questo è un tuorzolissimo Con questa camicia In giamaica Bello sto marmo E questo È Sotto il piano Il mercato di Sant'Agostino Sotto il piano Dove ora vedi che ci sono Queste tende Dove puoi andare lì Per bere qualcosa Cocktail L'inverno è la pista Di ghiaccio Dei new yorkesi E questa è la piazza Dove mettono Il famoso albero Di Natale Quello bello Che tutti gli anni Vediamo Cioè al posto Di tutti questi ombrelloni Ci va un albero No Lì la pista di ghiaccio E l'albero è lì Nello sfondo Dove erano America Dove era lì Capì che palle di Natale Che hanno La fine del mondo E qui Insomma Le vedi di tutti Quelli Questi ragazzi Tanti turisti A new york Perché tutti quelli Che vedi Che non sono di corsa Con un bicchiere in mano O quella giacca gravata Sono turisti Oh questo Lego Sempre nella piazza E questo è il negozio della Lego Che è veramente Il paradiso Dei bambini Ma soprattutto Degli adulti Te devo Con la scusa Dei fare le riprese Per i bambini In Italia A Rezzo Io voglio aprire Una succursale Che è anche più di Lego All'Apple E beh Questo insomma Rivediamo la stessa cosa Fra un po' Entreremo Se non ricordo male Anche dentro Il negozio Lego E lì Devo dire la verità Che Hai rubato qualcosa No Non ho rubato niente Però Veramente Ti rendi conto Il palazzo Lego Ora io non Per criticare L'architettura americana Lo facevo Tipo Lego Anche fuori No Beh dentro Ci sono veramente Delle sculture fatte Con i pezzetti Lego Veramente particolare Non ti ricordi Se ci sei entrato Io ai nostri spettatori Come no Entra su Fa poco il top Ci sono entrato Sì Ora magari Mi dilungo È sempre La tua moglie Sai che è sempre Allegra La tua moglie Ma perché lei Notoriamente Era sponsorizzata La misericordia Eccoci qua Qui siamo all'interno Dentro la Lego Dentro il negozio Tutti a fare le foto Lego 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 Ma chi compra C'è perché New York Io finora Oh vedi tutti È la cava dei leghini Ah quindi Sono divisi per colore Sì Ora c'è una mostra Lì veramente Qualcuno che li succia Sembra di essere Un autogrill Ma te l'hai comprato In pochi Sì ho fatto Un regalo A un bambino Figlio di nostri amici Che abitano lì In New Jersey Innamorato di Lego Quindi noi Abbiamo fatto così E ora io sai Qui La Rita mi sta guardando Ma le riprese Sono un po' Quelle che sono Perché insomma Io con i pochi Come detto Soldi Ecco qua Il drago Fatto con tutti i pezzi Della Lego No E devo dire la verità In tre dimensioni Ovviamente Molto bello Incredibile E lo vedi Uscire a testa Lì il corpo D'un'altra parte E un po' In tutto il negozio Ma c'è l'istruzione Anche per rifarlo a casa C'è l'ho diversi pezzi C'è l'ho diversi anni Secondo me Ma scusa I quei leghi alti Come fanno a pigliate Sono legati lì E sta a fermi Questa porta girevola È sempre della Lego Sì E della Lego Eccolo qua Guarda Questo è il pezzo finale Del drago Con la coda Ma sono di plastica Questi Sì Se scende incendio Sì No Dico se scende incendio Lui era abitato a giocare Con i pezzetti di legno E gli facevano col legno Io sono il direttore Di questa baracca Vi vorrei far capire Che sono l'unico Che non potete pigliare Per il culo Ecco Questo invece NBC studio Scazzo Questa è la televisione E l'NBC E la sede Una delle sedie È lì Nel palazzo Godiva Che è night Cioccolata Cioccolata Questa è una catena di negozi Molto elegante Molto bella Oddio Entra qui Te ne prego Entra Voglio vedere Le cioccolate americane Va capì Che nocciole Che hanno Come le zucche La notte di Alice Bato le nocciole Allora La ragazza Che qui Pulisce La sua fragolina Questa la dai 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 È neanche pericoloso Lo dicono anche Tutti i nostri medici Guarda cosa fa Prende sicuramente Una fragolina Fra un po' Per un tanto La sta preparando E questo sempre nel mezzo E qui ci sono Le cioccolate più particolari Le più buone Musiche sottofondo La tua moglie Stranamente Come ha visto Che inquadravi La cicalina Guarda questa Ti appena hai visto La tua moglie Hai preso Sto buttino Ma per lei Che c'è Quella l'hanno Zuppata sulla cioccolata Ma è così Del suo No Nel senso Allora Da mangiare Le inquadra Ecco Vedi La frag la pubblicizzano anche Come no Per loro è veramente Un must Ne fanno la vetrina esterna Di questa esposizione Ma il marcio è godiva Oppure godiva Il negozio E la cioccolata Da far loro Così Il marcio è Della catena godiva E tutti i prodotti Si si Se ne trovano molte Poi in giro E qui Si procede all'acquisto Di queste favolose Fragole grossissime La fragola Però insomma Fragole cioccolata Mi dice un po' No no Marron glassé Se ce l'avevano No Anche ancora Marron glassé Non da cadere In America Marron glassé Ma non ci sapevano Marron glassé Ascolta Agusti Perché loro Palle Fondamentalmente palle Bravo Secondo me in America Pensano più A riempirti l'occhio Che 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 No questo C'è da dire Sono molto molto bravi Insomma Non a casa americana Ti fa anche scegliere Voglio quella Ti da quella Poi A fronte A fronte Di un investimento Te l'ha fatta salutare Chiaro e tondo Chiaro e tondo Ciao 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 E come dicevo A fronte a un investimento Di 7 dollari Ti prendi la fragolina Te la intufa Ancola cioccolata morbidissima Una fragola 7 dollari Con la fichina Che ti fa A ritorno Ma sta bene Ho preso Un'inculata Mostruosa Alla prossima No ma non solo Io non l'ho neanche assaggiato Vittoriamente Ma mica l'ha messa Conta noi Rita No no Ah perfetto Alla prossima